Sì, allora ti ho portato la prima maglia della prima partita della tutta del mondo, 187, che non aveva dovuto cambiare con Michael Fionzo perché era la prima, lui ho cambiato l'altra maglia, e questa qua è la prima, in Italia, 187, tutta del mondo, perché non dovessi essere capitati, no? Questa invece è una maglia tutta la maglia delle zebre nella partita contro il West che non riesce accadendo, noi avevamo alcuni... e loro avevano 12 nazionali gallesi, e siamo riusciti a vincere a Giorno, ma qualche parte di Giorno... e questa qua invece è una partita di una sconfitta, anche se è quella della della sconfitta contro lo sguozzi del 15 della Colonna, con una gran balla partita al prediscito di Paola... ...tanti anni fa... non è, ma... ...quot'altro guarda, grazie a te... ...grazie a te... ...grazie a te... Grazie.